ciao a tutti amiche del canale della saponeria eco oggi pomeriggio mi trovo qui in negozio e vi realizzo questo video perché voglio farvi vedere una novità che abbiamo ma che molte donne diciamo molte mie amiche ti conoscono già da tempo infatti sotto loro suggerimento ci siamo fatti arrivare anche qui la linea della puro bio lip balm lip balm eccoli qua i lip balm tanto attesi ce li abbiamo adesso anche noi ovviamente come sempre voglio testarli li sto vedendo con voi per la prima volta perché voi sapete che come mi arriva una novità io arrivo qua tra l'allero tra l'allà e li voglio vedere con voi vado a leggere un attimino l'informativa dunque come si compongono questi lip balm intanto ci sono con due tipologie di prezzo sto vedendo 1 2 3 4 5 6 tipologie di lip balm e una sola colorazione tutti gli altri saranno neutri quindi senza colore ma avranno funzioni diverse per cui io vi presento l'everyday color che il naturale colore delle labbra adatto a chi vuole idratazione senza rinunciare ad un po di colore parliamo del lip balm appunto every day color eccolo qui lo vedete lo apriamo un attimo voilà i lip balm sono tutti dermatologicamente testati su pelli sensibili per cui ovvio ovviamente anche rigorosamente biologici vegan ok nickel tested organic cosmetics quindi state tranquilli allora poi abbiamo la linea anche per i più piccoli e per i più golosi lip balm per i bambini il kids eccolo qui anche per i vostri figli kids e lo zucchero filato contiene questo lip balm della puro bio un aroma di zucchero filato arricchito anche da aloe vera e calendula dalle proprietà idratanti le native e le sappiamo le conosciamo tutti le proprietà dell'aloe della calendula eccolo qua quello per i più piccolini ancora andiamo avanti proseguiamo con il menta e peperoncino questa è la vera novità piccante della puro bio per quello che riguarda i balsamo labbra quindi questi lip balm no allora questo è con mente e peperoncino per labbra fresche a lungo eccolo qui quindi arricchito con mente e peperoncino un altro poi l'ultra idratante ultra idrating al burro di karité ed olio di oliva eccolo qui per idratare a fondo con la camomilla per lenire e coccolare le vostre labbra quindi anche questo è un questa è una grande novità una chicchetta della linea puro bio che fa tutto fa tutto tutto e di più ormai nella cosmesi che ha rivoluzionato tutta la cosmetica biologica questo lo metto a posto l'idratante ed eccolo qui ancora il revitalizing dove sei il revitalizing eccolo qui ve lo faccio vedere che è arricchito con olio di argan ribes nero vite rossa e acido ialuronico un perfetto antiossidante e contiene anche questo la camomilla per lenire e coccolare le vostre labbra ecco è ottimo per prevenire e combattere le rughe del contorno labbra quindi anche questo ha un trattamento cosmetico per le più attente all'invecchiamento ai radicali liberi a quello che che volete questa ecco sapete perché vi dico questo perché il revitalizing oltre a tutte le varie proprietà degli altri lip balm ha anche un'alta capacità antiossidante ecco perché si chiama revitalizing lip balm ancora l'ultimo che ho è l'everyday quello più semplice che idrata senza lucidare eccolo qui l'everyday perfetto anche per l'uomo per il maschietto quindi se li vogliete provare uomini c'è anche l'idratante everyday diciamo che non lucida quindi lo potete usare per i periodi più freddi come questo ad esempio cos'altro dirvi cos'altro dirvi questi lip balm sono stati effettuati tantissimi test e controlli su campione di persone della pelle particolarmente sensibile quindi potete stare tutti tranquilli burro di karité olio di oliva vi ripeto la novità l'unico colorato è l'everyday lip balm color bellissimo che oltre a nutrire le vostre labbra dà anche un particolare colore nude quindi ragazze vi saluto vi ho fatto vedere questa breve panoramica delle nostre lip balm eccoli qui iscrivetevi al canale di momissima se non avete già fatto spolliciate e seguitemi sempre ogni novità sarà anche la vostra un bacio da amore 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 Grazie a tutti.